e allora abbiamo qua con noi una delle protagonisti assolute di questa ultima parte di campionato perché prima non è che giocavi poi tanto no e la svolta proprio quando invece luca ti ha messo a fianco a brunella e allora tutte le tue grandi caratteristiche grandi doti sono i miei merci ecco raccontami un po come è stato questo campionato questo campionato è stato molto intenso a livello fisico emotivo psicologico però è stato molto bello perché siamo cresciute molto a livello tattico e quindi siamo riuscite poi a giocare un buon girone di playoff e qual è stata senti la difficoltà più grande che avete incontrato in questa in questo campionato dove avete iniziato con un allenatore e avete continuato con un altro poi il portiere che non c'era qual è stata la la grande cosa da superare sicuramente ci sono stati un po di difficoltà a livello proprio di persone all'interno della squadra quindi ci siamo trovate senza un portiere con una giocatrice che dovesse rimpiazzarlo e quindi quella è stata la parte più difficile però siamo riuscite a superarlo e poi abbiamo giocato con un attimo portiere alla fine è andato tutto bene allora ultima domanda cosa rimane a ludovica bertusi di questa esperienza con la lazio quanta che sta con noi due anni e due anni viene viene una altra squadra è venuta qua da noi nella lazio che cosa ti rimane cosa ti resta di è sicuramente sono arrivata qui con un obiettivo che era quello di arrivare all'elite finalmente ci siamo dopo due anni quindi mi rimane tutta la grinta che mi è stata trasmessa dall'allenatore e quindi niente allora il prossimo anno una promessa doppia cifra di gol perché quest'anno ne hai fatti solo tre sì è il prossimo anno dove almeno almeno che devi promettere otto va bene e allora appuntamento nell'ite con ludovica bertusi e arrivederci a tutti grazie a tutti forza lazio